Chiavetta USB, film e scherzi, film e serie di musica, film e scherzi. Era un ragazzo vero, ora lo chiamo. Ciao piccola amante degli animali Salve Sono la guardiana dello zoo Ehi, se lo... Ciao Ciao Anche parlare italiano? Ma dai Ragazzino può fare almeno di cantarla DJ È l'ora della verifica Alessio, non sei un minaggio E' Luca Solti Gigi Daessi Mimmo 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 DJ Mettila a tutto a volume E' così Mimmo Eccolo è lui, ve l'ha tolto dalle spalle, lavatelo di aspirafoglie! Si alzi in piedi, andiamo a recertare! Non oppondere le scelte, non oppondere a leggere le mani barbari! O sopporterete l'ina delle grande e potente... ...grada, panicoso! Consciuto, la tua impressione? Sono perfetti, arrotondati, con grande definizione! Non i tuoi muscoli, la ruota! Ora accendiamo un bel fuoco e friggiamo un po' di pesce! E scortare e rompere tutto! Avanti ragazzi, avanti!